Non sarà la soluzione di tutti i mali, eppure il secondo, felice pranzo casalingo, ha dato alla Virtus esattamente le portate che servivano alla squadra di Ramagli. Finalmente un finale dominato, quello contro Torino, grazie a una prova di squadra propiziata da una svolta difensiva e da tanta collaborazione, quello che la proprietà aveva chiesto. Non sarà ancora tutto roccheluccica, ma intanto è un bel modo di mettersi al riparo dalle correnti e prendersi la settimana abbondante che separa dalla trasferta di Santo Stefano a Varese per continuare a coltivare propositi di svolta. È stata una sega freddo ancora morbida nel primo tempo, ma in graduale crescita fino a decollare nel momento più importante, capace di vincere tirando appena col 40%, proprio in virtù di un cambio di ritmo difensivo che nella parte finale del match ha lasciato poco spazio ai piemontesi, traditi da Vujacic, 0 su 10 al tiro per l'ex di Lekkers e Nix, e domati soprattutto da Stefano Gentile, 11 punti e molta leadership in un attacco meglio gestito di quanto non faccia, come al solito il lunatico Lafayette. Anche l'americano comunque nel finale, pur con le consuete forzature, il mattoncino l'ha messo, e in realtà hanno contribuito tutti. Alessandro Gentile continua a essere un po' il simbolo della squadra che vuole aiutarsi, trasformando il talento individuale in collaborazione. Certo, gli servono 17 tiri per fare 14 punti, però ci mette anche 6 assist, alcuni spettacolari e 9 rimbalzi. Così come Aradori, che si sblocca solo parzialmente da 3 con 1 su 4, dopo lo 0-11 sottolineato da Baraldi, però sa prendersi le responsabilità giuste nel momento che conta. Assieme al Gentile Maggiore, splende però soprattutto Lawson, 16 punti in altrettanti minuti, viaggiando bene al fianco di Slotter.